Leo si rese vagamente conto di Hazel che gridava «Voi andate, a Nico ci penso io!» come se lui avesse avuto intenzione di fermarsi. Sì, certo, sperava che Diangelo stesse bene, ma aveva ben altro di cui preoccuparsi. Balzò su per le scale, con Jason e Frank alle calcagna. La situazione sul ponte era perfino peggiore di quanto temesse. Edge e Piper si divincolavano per cercare di liberarsi dal nastro adesivo, mentre uno di quei demoni scimmieschi ballava per tutto il ponte, raccogliendo qualsiasi cosa non fosse fissata alla nave e infilandola nel sacco. La creatura era alta meno di un metro, perfino meno del satiro. Aveva le gambe curve e le zampe da scimpanzee, e i suoi vestiti erano così sgargianti che Leo aveva le vertigini solo a guardarli. I pantaloni a quadri verdi, risvoltati con spille da balia, si reggevano grazie a un paio di bretelli rossofuoco, indossate sopra una camicetta da donna, a righe rosa e nere. La creatura aveva poi mezza decina di orologi d'oro per braccio e un cappello zebrato da cowboy, con la targhetta del prezzo ancora sulla tesa. La pelle era coperta di chiazze di peluria rossa e arruffata, anche se il 90% dei peli del corpo sembrava concentrarsi sulle imponenti sopracciglia. Leo aveva appena formulato il pensiero «Dov'è l'altro nano?» quando udì un clic alle proprie spalle e comprese di avere condotto gli amici in una trappola. «Giù!» si lanciò sul ponte nell'istante esatto in cui l'esplosione gli risuonò nei timpani. «Prendi nota!» si disse, stordito. «Mai lasciare una cassa piena di granate a portata di nano!» Almeno erano vivi. Negli ultimi tempi, Leo aveva sperimentato ogni genere di arma basata sulla sfera di Archimede rinvenuta a Roma. Aveva costruito granate in grado di spruzzare fuoco acido, schegge o popcorn già imburrati. «Ehi, la fame quando arriva arriva, anche in battaglia!» A giudicare dall'eco che ancora sentiva nelle orecchie, i nanni avevano fatto detonare la granata Flashbang, che Leo aveva caricato con una rarissima fialetta di musica di Apollo distillata. Non era un'arma mortale, ma ti faceva sentire come dopo un tuffo spericolato, con atterraggio di pancia. Cercò di rialzarsi, ma il corpo non voleva saperne. Qualcuno lo stava tirando per la vita? Un amico che cercava di aiutarlo? No, i suoi amici non puzzavano come una gabbia di scimmie innaffiata di profumo. Leo riuscì a voltarsi di schiena. Non ci vedeva bene, era tutto sfocato e tinto di rosa, come se il mondo fosse sommerso dalla gelatina di fragole. Una faccia grottesca e sogghignante si stagliò sopra di lui. Il nano dal pelo bruno era vestito se possibile perfino peggio del suo compagno, con una bombetta verde da gnomo irlandese, orecchini di diamante e una maglietta bianca e nera da arbitro. Mostrò orgoglioso l'ultima conquista, la cintura degli attrezzi, e si allontanò a passo di danza. Leo cercò di acciuffarlo, ma le dita non rispondevano ai comandi. Il nano si avvicinò saltellando alla balista più vicina, dove il compare dal pelo fulvo stava caricando un colpo. Il nano dal pelo bruno saltò sul proiettile come se fosse uno skateboard, e il suo amico lo scagliò verso il cielo. Poi il pelo fulvo si avvicinò baldanzoso a Hedge, gli schioccombe il bacio su una guancia e con un balzo raggiunse il parapetto. Fece un inchino, si levò il cappello da cowboy, e con una capriola all'indietro si tuffò fuori bordo. Leo riuscì ad alzarsi. Jason era già in piedi, anche se barcollava e inciampava su tutto. Frank si era trasformato in un gorilla schiena grigia, forse nella speranza di comunicare con i nani scimmie, ma la granata lo aveva colpito duramente. Era sdraiato a terra con le braccia e le gambe scomposte, la lingua penzoloni e gli occhi rivoltati. Piper! Jason raggiunse il timone e le tolse con cautela il bavaglio dalla bocca. Non perdere tempo con me, disse lei. Insegui i nani! All'albero maestro, Hedge mugugnò... Il figlio di Efesto non ci mise molto a capire cosa intendeva. Uccideteli! La maggior parte delle frasi del satiro includevano il verbo uccidere. Leo lanciò un'occhiata alla console di comando. La sfera di Archimede era svanita. Si portò una mano alla vita, dove sarebbe dovuta trovarsi la cintura degli attrezzi. Cominciò a sentirsi più lucido e l'indignazione aumentò. Quei nani avevano attaccato la sua nave. Avevano rubato i suoi beni più preziosi. Sotto di lui si estendeva la città di Bologna, un puzzle di edifici dai tetti rossi in una valle orlata di verdi colline. Se non fosse riuscito a ritrovare i due nani in quel labirinto di strade... No, il fallimento non era contemplato. E nemmeno aspettare che i suoi amici si riprendessero aveva senso. Leo si rivolse a Jason. Se la senti di controllare i venti, mi serve un passaggio. Il figlio di Giove si accigliò. Certo, ma bene, lo interruppe Leo. Abbiamo delle stupide scimmie da catturare. Jason e Leo atterrarono in una grande piazza, circondata da edifici storici e bar con i tavolini all'aperto. Motorini e biciclette intasavano le strade, ma la piazza di Persia era vuota, a parte i piccioni e qualche anziano seduto a prendersi un caffè. Nessuno sembrò notare l'enorme nave da guerra greca che veleggiava sopra la piazza, né che Jason e Leo si erano appena calati dal cielo. Il primo armato di una spada d'oro e il secondo... Beh, a mani vuote, più o meno. Da che parte andiamo? chiese Jason. Non lo so. Tiro fuori il GPS rintraccianani dalla mia cintura degli attrezzi e... Aspetta, io non ho un GPS rintraccianani e non ho più nemmeno la cintura! E va bene. Jason sollevò lo sguardo verso la nave, come per orientarsi, poi indicò il lato opposto della piazza. La balista ha spedito il primo nano in quella direzione, credo. Andiamo! Si fecero largo in un mare di piccioni e imboccarono una via laterale, sotto un portico costeggiato di negozi di abbigliamento e bar. Le colonne erano piene discritte. Un mendicante allungò la mano, chiedendo degli spiccioli. Leo continuava a tastarsi la vita, sperando che la magica cintura degli attrezzi ricomparisse da sola. Cercò di non farsi prendere dal panico, ma ormai dipendeva troppo da quella cintura. Era quasi come se gli avessero rubato le mani. La ritroveremo, promise Jason. Di solito la rassicurazione avrebbe funzionato. Jason era davvero bravo a mantenere la calma nelle circostanze più critiche e lo aveva tirato fuori da parecchi guai. Quel giorno, però, Leo non faceva che pensare allo stupido biscotto della fortuna che aveva aperto a Roma. Nemesis gli aveva promesso il suo aiuto e così era stato. Aveva ottenuto il codice per attivare la sfera di Archimede. Era stato l'unico modo per salvare gli amici, ma Nemesis lo aveva avvisato. Quello aiuto comportava un prezzo da pagare. Leo si chiese se avrebbe mai finito di saldare il conto. Persia e Annabeth non c'erano più. La nave era centinaia di chilometri fuori rotta, diretta verso una sfida impossibile. Gli amici si aspettavano che lui sconfiggesse un terribile gigante. E ormai non aveva più nemmeno la sua cintura degli attrezzi, né la sfera di Archimede. Era così occupato ad autocommiserarsi che non si rese conto di dove erano finché Jason non lo prese per il braccio. «Guarda!» Leo sollevò gli occhi. Erano arrivati in una piazza più piccola. Sopra di loro si stagliava un'enorme statua di bronzo di Nettuno, nudo come un verme. «Cavoli!» Leo distorse lo sguardo. Non aveva nessun bisogno di vedere uno spettacolo del genere a quell'ora del mattino. Nettuno si ergeva su un grande piedistallo di marmo al centro di una fontana vuota, cosa piuttosto ironica per il dio del mare. Ai suoi piedi, piccoli cupidi alati se ne stavano seduti tranquilli, senza un pensiero al mondo. E anche il dio, zona inguinale a parte, se ne stava con tutto il peso poggiato su un fianco, come in una mossa alla Elvis Presley. Reggeva il tridente con la mano destra, ma non troppo stretto, mentre tendeva la sinistra come per benedire Leo. O forse per farlo levitare. «Dici che è un indizio?» chiese Leo. Jason aggrottò la fronte. «Forse sì, forse no. L'Italia è piena di statue degli dèi. Mi sarei sentito meglio se ci fossimo imbattuti in Giove. O Minerva. O chiunque altro che non fosse Nettuno, ma dire il vero». Leo si arrampicò nella fontana asciutta, posò una mano sul piedistallo della statua e le dita gli trasmisero subito un'ondata di sensazioni. Percepì ingranaggi di bronzo celeste, leve, molle e pistoni magici. «È meccanico?» disse. «Forse è una porta che conduce al covo segreto dei nani?» «Oh!» strepitò una voce. «Un covo segreto?» «Voglio un covo segreto!» gridò un'altra voce dall'alto. Jason fece un passo indietro, impugnando la spada. Leo rischiò di beccarsi il colpo della strega, tentando di guardare contemporaneamente in due punti. Il nano dal pelo fulvo e col cappello da cowboy era seduto al tavolino di un bar, a una decina di metri di distanza, e sorseggiava un caffè reggendo la tazzina con un piede. Il nano dal pelo bruno e con la bombetta verde era pollaiato sul piedistallo accanto a Nettuno. «Se avessimo un covo segreto, io ci metterei anche un palo dei pompieri!» disse pelo fulvo. «E uno scivolo ad acqua!» aggiunse pelo bruno, che stava tirando fuori attrezzi a caso dalla cintura di Leo, lanciando chiavi inglesi, martelli e spilatrici. «Smettila!» Leo cercò di prendere il nano per i piedi, ma era troppo in alto. «Siamo bassini, eh?» lo stuzzicò quello in tono compassionevole. «Tu stai dando del basso a me?» Leo si guardò intorno per cercare qualcosa da lanciargli contro, ma c'erano solo piccioni e dubitava di poterne catturare uno. «Ridammi la cintura, stupido di un...» «Su via!» ribatte pelo bruno. «Non ci siamo nemmeno presentati!» «Io sono Acamone e mio fratello laggiù è...» «Il bello di famiglia!» Pelo fulvo sollevò la tazzina. A giudicare dalle pupille dilatate e dal ghigno da pazzo maniaco non aveva bisogno di altra caffeina. «Mi chiamo Passalo, voce di mille canzoni! Gran bevitore di caffè! Ladro di cose luccicanti!» «Ma per favore!» strillò il fratello. «Io sono un ladro molto migliore di te!» Passalo sbuffò. «Come no! A rubare le ore al sonno può darsi!» Tiro fuori un pugnale e si mise a usarlo come stuzzicadenti. «Ehi!» protestò Jason. «Quello è il pugnale della mia ragazza!» E si lanciò contro Passalo. Ma il nano era troppo veloce. Saltò su dalla sedia come una molla, volò sopra la testa di Jason con un balzo e atterrò accanto a Leo, cingendogli la vita con le braccia pelose. «Salvami!» supplicò. «Toglimi le mani di dosso!» Leo cercò di scansarlo con una spinta, ma Passalo fece una capriola all'indietro e atterrò lontano. Un istante dopo, Leo si ritrovò con i pantaloni calati fino alle ginocchia. Guardò Passalo con gli occhi sgranati. Il nano sogghignava contento, stringendo in una mano una strisciolina di metallo a zigzag. Chissà come era riuscito a rubargli la zip dei pantaloni! «Dammi quella stupida cerniera!» gridò Leo, cercando allo stesso tempo di minacciarlo con il pugno e di reggersi i pantaloni. «Ehi! Non lucica abbastanza! Passalo! La gettò via!» Jason stavolta lo attaccò direttamente con la spada, ma Passalo si slanciò verso l'alto e con un solo balzo era già seduto sul piedistallo della statua accanto al fratello. «Ora dimmi che non ho delle belle mosse!» si bantò. «E va bene!» replicò Akmone. «Non hai delle belle mosse!» «Ma dammi quella cintura degli attrezzi, ti voglio vedere!» «No!» Akmone lo scansò col gomito. «Tu hai già il pugnale e la sfera lucente!» «Sì, la sfera è carina!» Passalo si tolse il cappello da cowboy e, come se stesse estraendo un coniglio dal cilindro di un mago, tirò fuori la sfera di Archimede e si mise ad armeggiare con l'antico quadrante di bronzo. «Fermo!» gridò Leo. «Quella è una macchina delicata!» Jason si portò al suo fianco e squadrò accigliato i due nani. «Si può sapere chi siete voi due?» «Siamo i cercopi!» A occhi socchiusi, Akmone scruttò Jason. «Scommetto che tu sei un figlio di Giove, eh? Lo capisco sempre!» «Proprio come chiappe scure!» concordò Passalo. «Ciappe scure?» Leo resistette all'impulso di fare un altro salto per acciuffare i nani per i piedi. Era certo che avrebbero finito col rompere la sfera di Archimede. «Ma sì!» Akmone sorrise. «Lo conoscete, Ercole! Lo chiamavamo chiappe scure perché aveva l'abitudine di andarsene in giro senza vestiti. Si era abbronzato così tanto che almeno aveva senso dell'umorismo», aggiunse Passalo. «Stava per ucciderci quando lo abbiamo derubato, ma ci lasciò andare perché gli piacevano le nostre battute. Non come voi due brontoloni!» «E io ce l'ho il senso dell'umorismo!» ringhiò Leo. «Ridatemi la roba e vi racconterò una barzelletta con un gran bel finale!» «Ah, bel tentativo!» Akmone tirò fuori una chiave inglese e si mise a rotearla tanto per fare un po' di rumore. «Oh, questa mi piace! La tengo di sicuro!» «Grazie, chiappe blu!» «Chiappe blu?» Leo abbassò lo sguardo. Aveva di nuovo i pantaloni calati e, naturalmente, si vedevano i boxer azzurri. «Basta!» gridò. «La mia roba subito! O vi farò vedere quanto è divertente un nano in fiamme!» Le sue mani si incendiarono. «Questo sì, che parlare!» Jason sollevò la spada verso il cielo. Nuvoloni neri cominciarono a raccogliersi sopra la piazza, mentre un tuono fece sentire il suo rombo. «Oh, che paura!» strillò Akmone. «Paura?» gli fece copassalo. «Oh, se avessimo un covo segreto in cui nasconderci!» «Aimè, questa statua non è la porta di un covo segreto!» continuò Akmone. «Ha uno scopo diverso!» Leo si sentì attorcigliare le budella. Il fuoco sulle mani si spense e lui si rese conto che c'era qualcosa che non andava. «È una trappola!» gridò e si lanciò fuori dalla fontana. Rotolò sulla schiena, mentre cinque corde dorate schizzarono dalle dita della statua di Nettuno. Una lo mancò di poco, mentre le altre quattro puntarono su Jason e centrarono il bersaglio, avvolgendolo come un vitello da rodeo. Il figlio di Giove, che non era scappato subito perché troppo impegnato a evocare la tempesta, si ritrovò peso a testa in giù. Un fulmine si abbatté sulle punte del tridente di Nettuno, mandando archi di elettricità lungo tutta la statua. Ma i cercopi erano già scomparsi. «Bravo!» applaudì Akmone dal tavolino di un bar poco distante. «Sei una pentolaccia magnifica, figlio di Giove!» «Sì!» concordò Passalo. «Ercole una volta ci appese a testa in giù, lo sapevi?» «Oh, vendetta! Dolce vendetta!» Leo evocò una palla di fuoco. La scagliò contro Passalo, che stava cercando di roteare in aria come un giocogliere la sfera di Archimede insieme a due piccioni. «Ghi!» Il nano evitò con un salto l'esplosione e lasciò cadere la sfera. I piccioni volarono via. «È ora di filarcela!» decise Akmone. Inclinò un poco la bombetta in segno di saluto e saltò via, balzando di tavolino in tavolino. Passalo lanciò un'occhiata alla sfera di Archimede, che era rotolata ai piedi di Leo. Il figlio di Efesto evocò un'altra palla di fuoco. «Vieni avanti!» ringhiò. «Addio!» Passalo fece una capriola all'indietro e corse al seguito del fratello. Leo raccolse la sfera di Archimede e andò subito da Jason, che era ancora appeso a testa in giù e legato come un vitello, tranne per il braccio che reggeva la spada. Stava cercando di tagliare le corde, ma con scarsi risultati. «Tieni duro!» disse Leo. «Devo solo trovare il pulsante di rilascio e...» «Voi!» ringhiò Jason. «Non appena mi libero ti seguo anch'io!» «Ma non perderli di vista!» L'ultima cosa che Leo desiderava era ritrovarsi da solo con quelle due specie di scimmie, ma i cercopi stavano già scomparendo dietro l'angolo opposto della piazza. Così lasciò l'amico appeso e si lanciò all'inseguimento. « Candi in liberto vi Target di bamba anche pro Therapistati, ma i cercetto marge». «Cantel marge»